Ad oggi in Italia la maggior parte delle persone vive stipendio dopo stipendio faticando in modo assurdo a risparmiare denaro o addirittura ad investirlo. Questo significa che la maggior parte della popolazione fatica a risparmiare o investire dopo aver coperto le spese mensili ed ovviamente questo non fa altro che peggiorare la loro situazione economico-finanziaria. Ma esattamente quali sarebbero i motivi per i quali tutte queste persone sono costrette a vivere una vita difficile e quantomeno per ciò che riguarda il lato economico? Ma soprattutto c'è una soluzione che può essere adottata per cercare di rimediare a tutto ciò? In questo video cercheremo delle risposte a queste domande, ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per sostenerlo. L'espressione vivere di stipendio in stipendio viene spesso usata nelle discussioni sulla finanza personale, ma cosa significa esattamente in questo contesto? Vivere di stipendio in stipendio si riferisce ad una situazione finanziaria in cui il reddito di una persona o di una famiglia copre a malapena le necessità di base come abitazione, utenze, generi alimentari e trasporti. Quindi saltare anche solo uno stipendio potrebbe causare enormi difficoltà finanziarie. Quando vivi di stipendio in stipendio risparmiare denaro diventa difficile se non impossibile e investire è completamente fuori portata. Questo ti lascia più esposto alle emergenze finanziarie se il tuo reddito viene interrotto, senza contare lo stress associato a una tale situazione che non può far altro che peggiorare tutto anche dal punto di vista psicologico. Almeno la metà delle persone afferma che le bollette mensili elevate sono la ragione principale per cui vivono di stipendio in stipendio, ma quanto controllano davvero le persone su queste bollette? Mentre alcune spese come l'abitazione e le utenze sono spesso fisse e difficili da ridurre, altre come le spese discrezionali o i servizi in abbonamento offrono più margine di aggiustamento. È importante riconoscere che le bollette elevate possono significare cose diverse per persone diverse. Per alcuni le bollette elevate possono derivare da spese eccessive come comprare un'auto che supera il proprio budget o affittare un appartamento più grande e costoso del necessario. In questi casi, le bollette elevate sono una conseguenza diretta di scelte finanziarie che potrebbero non attenersi con il loro reddito. D'altra parte, le bollette elevate potrebbero non derivare affatto da spese eccessive, ma piuttosto dalla difficoltà di gestire le spese di base come assicurazioni, utenze e il costo di mantenere una famiglia, che possono essere tutte onerose indipendentemente dalle abitudini finanziarie. In altre parole, alcune persone si trovano ad affrontare bollette elevate a causa di spese eccessive, mentre altre hanno spese elevate per necessità di base anche se vivono uno stile di vita molto modesto. In quasi tutti i casi, però, queste persone sono costrette a vivere di stipendio in stipendio in parte perché non pianificano o gestiscono le proprie finanze. Questo dimostra che il problema non riguarda solo quanto denaro guadagnano, ma anche come lo gestiscono. Quante persone conosci che non si preoccupano minimamente del denaro? Magari non sanno o non si curano di quanto spendono in diverse categorie e pensano che alla fine tutto quanto si sistemerà in modo autonomo. Perché non fanno lo sforzo di tenere traccia delle loro finanze? Potrebbe essere che l'idea di fare un budget sembri opprimente? Magari credono che significhi dover smettere di spendere del tutto, ma spesso non è affatto così. Senza un po' di organizzazione nelle spese, è facile perdere il controllo di dove va il denaro ogni mese, portando a spendere eccessivamente in cose di cui non si ha veramente bisogno, trascurando spese importanti o risparmi per le emergenze. La pianificazione finanziaria è altrettanto importante perché ti aiuta a stabilire obiettivi a lungo termine, come risparmiare per la pensione o pagare i debiti, e ti fornisce un piano chiaro per raggiungerli. Senza questi strumenti, le persone spesso finiscono in un ciclo di semplice sopravvivenza, senza modo di andare oltre il vivere di stipendio in stipendio. Fare un budget e pianificare non riguarda solo il taglio delle spese, ma piuttosto la creazione di un piano di gioco che ti aiuti a soddisfare le tue esigenze immediate e future. Si potrebbe pensare che un basso reddito sia l'unica causa del vivere di stipendio in stipendio, ed in parte è vero, ma sorprendentemente non guadagnare abbastanza denaro non è la preoccupazione più grande, perché non è raro trovare persone che comunque, pur guadagnando molto, vivono di stipendio in stipendio. Per molti non guadagnare abbastanza denaro è una grande fonte di difficoltà finanziaria. Quando il tuo stipendio copre a malapena le necessità come affitto, utenze e generi alimentari, spesso non resta nulla per risparmiare o per affrontare spese impreviste. È incredibilmente frustrante lavorare sod ogni giorno, settimana dopo settimana, per tutto l'anno solo per ricevere uno stipendio che riesce a malapena a coprire i bisogni di base e ti lascia lottare per arrivare al prossimo giorno di paga. Molte persone si trovano in questa difficile situazione, dove nonostante il loro duro lavoro e impegno, il loro reddito non è sufficiente per tenere il passo coi costi in aumento e le spese impreviste. Ogni settimana al supermercato i prezzi sembrano raddoppiare, mentre solo una cosa rimane sempre invariata. Lo stipendio. È demoralizzante vedere che nonostante tutti gli sforzi fatti, lo stipendio che ricevi non è sufficiente per costruire alcun risparmio o creare un cuscinetto finanziario. Questo significa che ogni stipendio ha malapena arriva a coprire le spese fino al prossimo e liberarsi da questo ciclo è una sfida quando non ci sono abbastanza soldi per comprire le spese attuali, figuriamoci risparmiare o investire per il futuro. In ogni caso c'è anche una minoranza di persone che sostiene di vivere di stipendio in stipendio a causa di emergenze impreviste. Questi eventi imprevisti, come problemi medici, riparazioni dell'auto o problemi di manutenzione della casa, possono rapidamente usare risparmi e interrompere anche i budget più attentamente pianificati. Spesso sembra che ci sia una nuova emergenza ogni mese, anche se ci vogliono mesi o persino anni per riprendersi dall'ultima. Quando si verifica un'emergenza, la mancanza di un cuscinetto finanziario significa che le persone devono spesso fare affidamento su carte di credito o prestiti per coprire queste spese improvvise, aggravando ulteriormente la loro situazione finanziaria. Di conseguenza, queste emergenze contribuiscono significativamente al ciclo del vivere di stipendio in stipendio, rendendo difficile accumulare risparmi o fare progressi a lungo termine. In ogni caso, una cosa è certa, le emergenze e le spese impreviste sono inevitabili. Che si tratti di un problema medico imprevviso, di una riparazione urgente dell'auto o di una riparazione imprevista della casa, queste situazioni possono sorgere in qualsiasi momento e spesso senza preavviso. Essere preparati a gestire queste emergenze è cruciale per mantenere la stabilità finanziaria e ridurre lo stress. Una cosa per cui invece tutti sono d'accordo è sicuramente riguardante l'aumento generale del costo della vita. Per molti, la realtà è che i prezzi stanno aumentando più velocemente del loro reddito, il che significa che il loro potere d'acquisto si sta gradualmente riducendo nel tempo. Trovano sempre più difficile permettersi le stesse cose che potevano permettersi prima, mettendo più pressione sulle loro finanze. L'aumento dei tassi di interesse, l'impennata dei prezzi delle auto e il costo esorbitante dell'acquisto di una casa sono solo alcuni esempi di spese che sono sfuggite di mano negli ultimi anni. Anche le attività quotidiane, come mangiare fuori, sono diventate sempre più costose e questi costi crescenti stanno rendendo difficile per le persone mantenere il loro standard di vita, per non parlare del risparmio o per il futuro. Il divario tra reddito e spese si sta allargando per molti, trasformando il costo della vita in un problema serio che influenza la loro stabilità finanziaria e soprattutto la qualità complessiva della vita. Purtroppo la maggior parte delle persone spendono tutto il loro stipendio, se non di più, solitamente è solo per mantenersi. Questo significa che se dovessero affrontare un'emergenza, dovessero fare affidamento sui loro risparmi, farebbero fatica a coprire anche solo un mese di spese essenziali. Vivere così vicini al limite non rende certo più facile dormire la notte. Con risparmi così limitati diventa difficile affrontare battute d'arresto finanziari inaspettate, lasciando molte persone vulnerabili e incapaci di gestire efficacemente le emergenze. In ogni caso, dei piccoli consigli che possono aiutare molto per ciò che riguarda il primo approccio alla finanza e soprattutto al risparmio sono sicuramente prepararsi il pranzo a casa piuttosto che acquistarlo ogni giorno, prediligere acquisti di seconda mano dove possibile e soprattutto cercare a tutti i costi di evitare debiti che possono erodere lentamente le proprie finanze. Un chiaro esempio potrebbe essere quello del mutuo per l'acquisto della propria auto. Vivere di stipendio in stipendio è una dura realtà per la maggior parte degli italiani, causata da bollette elevate, mancanza di pianificazione, basso reddito ed emergenze impreviste. Sebbene una pianificazione migliore possa aiutare, è comunque una grande sfida per molti. Con pochi o nessun risparmio le persone sono a rischio di difficoltà finanziare se qualcosa va storto e spezzare questo ciclo può richiedere un notevole sforzo, ma il risultato sicuramente ne vale la pena. A questo proposito ho pubblicato molti altri video sul mio canale che possono aiutarvi a capire il mondo della finanza personale e vi consiglio di dargli un'occhiata. Detto questo, se sei arrivato fino a qui ti invito a cliccare sul video che ti sta comparendo ora in sovraimpressione, perché sono sicuro che ti piacerà. Grazie per la visione.